Musica Buonasera dal TG6, in apertura parliamo di trasporti, un vulnus normativo della regione Abruzzo metterebbe a rischio il settore del trasporto pubblico e quanto emerge dopo un incontro tra sindacati, presidenza della TUA, l'azienda di trasporto unico e il delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro, vediamo L'Aquila Roma ha il costo di un euro a biglietto e questa la notizia che ha portato la Filt CGL ad affrontare la questione con la regione in un tavolo che però non ha dato il risultato sperato, la questione può essere riassunta così Un vettore privato ha presentato formale richiesta per coprire con i suoi mezzi la tratta suscitata e dopo il diniego della regione Abruzzo che già copriva quella tratta, la società privata fa ricorso al TAR e lo vince a causa di un vulnus normativo della regione Abruzzo Perché fondamentalmente la sentenza ha trovato campo libero rispetto ad un vuoto normativo, un vuoto legislativo perché la regione Abruzzo non ha fondamentalmente programmato i servizi minimi di questa regione La questione ora ruota sui danni economici verso la società di trasporto abruzzese TUA Si tratta di uno dei tragetti più utilizzati e soprattutto il rischio è che i privati possano sovrapporre nuove corse anche ad altre tratte visto il precedente poiché l'Abruzzo ancora quel buco normativo non l'ha colmato E se la regione non si dà da fare per trovare immediatamente una fonte normativa Abbiamo il serio rischio che altre tratte importanti, immaginiamo la Pescara Chieti, immaginiamo anche la Teramo Giulianova possano essere oggetto dello stesso tipo di intervento Ad aggiungersi alla preoccupazione ora c'è anche quello della cessione dei rami d'azienda TUA Spiega la Filt CGL e la società in questione, la Sangritana S.p.A. che si avvale del decreto Madia sul libero mercato e che, secondo il sindacato, rischia solo di creare un depotenziamento dell'azienda pubblica Ad esempio sulla Sulmona Avezzano Roma ci sono 378 mila viaggiatori che annualmente fruiscono dei servizi dell'azienda regionale di trasporto Noi non capiamo i motivi per i quali un ramo di questa società, ovvero i servizi commerciali, debbano in qualche modo passare ad un'altra società Ora torniamo a parlare di appalti e dell'inchiesta che a Tagliacozzo ha portato all'arresto di quattro persone, tra le quali anche il primo cittadino Le intercettazioni pubblicate oggi sul caso di Tagliacozzo destano preoccupazione almeno quanto l'incendio delle auto del sindaco Ancora senza una chiara soluzione, il solo sospetto che gare appalti possano essere stati gestiti favorendo professionisti e imprese amiche è chiaramente inaccettabile, lo afferma in una nota il Movimento 5 Stelle al comune di Tagliacozzo Secondo notizie pubblicate online la procura avrebbe già altri comuni della Marsica poiché la notizia delle indagini avviate su Tagliacozzo ci sono state notificate anche su altri esposti Lo scorso 25 marzo, afferma sempre il Movimento 5 Stelle, abbiamo letto di indagini in corso che coinvolgono sindaci, amministratori, dirigenti comunali, professionisti e imprenditori di Avezzano, Celano con le Longo, Cerchio, Ortucchio, Trasacco, Castellafiume e Canistro e di fronte a questo scandalo che potrebbe andare bene oltre il nostro comune il rischio è che i cittadini si allontanino ulteriormente dalla politica e per questo riteniamo che per il bene di Tagliacozzo e per senso di responsabilità istituzionale l'attuale vice sindaco indagato nell'ambito della stessa inchiesta che ha portato a tre arresti sebbene non raggiunto da provvedimenti restrittivi debba rassegnare le dimissioni insieme all'intero Consiglio Comunale Ora invece andiamo a Pescara, si continua a parlare di balneazioni, di dati ed è proprio il forum abruzzese dell'acqua a parlare e presentare i dati sulla situazione nella nostra regione numeri negativi e preoccupanti con numerosi divieti già in essere ed altri in arrivo Ci dice tutto Paolo Rinsetti De Santis, sono usciti i dati riguardanti la balneazione nella nostra regione, dati piuttosto allarmanti? I nodi vengono al pettine, noi sono anni che denunciavamo una situazione fuori controllo e avevamo detto anche qualche anno fa, da qualche anno, che alcuni tratti che erano e sono molto inquinati dopo 5 anni di classificazione nella classe peggiore e scarsa sarebbero stati chiusi alla balneazione Molti hanno fatto finta di nulla, alcuni hanno guardato dall'altra parte, il risultato è che quest'anno 8 tratti costieri saranno chiusi permanentemente per tutto il 2016 alla balneazione Quali sono i tratti di spiaggia chiusi? Ce n'è uno a Roseto, 4 a Ortona, 2 a San Vito Chietino e 1 a Torino di Sangro Chi vuole informarsi può andare sul sito della regione mettendo su Google balneazione Regione Abruzzo oppure andare sul portale Acque del Ministero della Salute in cui poi vengono aggiornati i dati costantemente Poi ce ne sono altri 10 ritratti che invece partiranno chiusi durante la stagione, c'è dal 1 maggio e potranno essere riaperti solo se ci sono due analisi positive più l'eliminazione delle cause della contaminazione Quindi abbiamo una situazione in cui il 15% dei tratti costieri abruzzesi sostanzialmente partirà col divieto di balneazione e questo è un dato gravissimo per l'economia abruzzese e per il nostro ambiente L'indagine sul centro oli di Vigiano in Basilicata riapre il dibattito sul referendum e sulle trivelle in Italia Per il Comitato del Sì questa sarebbe l'ennesima prova del fatto che la coltivazione di idrocarburi in Italia è spinta dai soliti nodi Alfredo Primante E la stretta attualità della cronaca giudiziaria a riportare in primo piano il tema delle trivelle del referendum del prossimo 17 di aprile Le dimissioni del ministro per le attività produttive Federica Guidi a seguito dello scandalo degli arresti e delle intercettazioni relative all'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti per il centro oli Eni Lucano di Vigiano e per la realizzazione dell'impianto totale di Tempa Rossa che ha coinvolto tra gli altri rimprenditore e compagno del ministro Gianluca Gemelli danno l'opportunità al Comitato Referendario per il Sì di tornare a chiedere la partecipazione al referendum abrogativo indetto lo ricordiamo per decidere se cancellare o meno la norma che consente alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo per il Comitato che si batte per il no al referendum l'abrogazione della norma attuale sarebbe una vera e propria mazzata al settore petrolio in Italia cancellando posti di lavoro e non consentendo investimenti e creazione di nuovi posti ma per il Comitato del Sì gli argomenti della legge di stabilità e dei posti di lavoro non sono sufficienti a rendere vano il referendum voluto ricordano anche dalla regione Abruzzo Ma che cosa emerge lo diranno i magistrati però possiamo già dire quello che il procuratore antimafia ha detto qui non si parla di associazione mafiosa, non ci sono mafiosi, non ci sono dranchetosi, non ci sono camorristi c'è un panorama in cui le aziende industriali in prima persona gestiscono smaltimento illegale dei rifiuti questa mi sembra un'evoluzione grave della questione, non si usano più intermediari ma si fa in prima persona questo lo fanno aziende grandi che si ritengono responsabili e quindi provocando gravi inquinamenti su cui indegherà la magistratura tanto più possiamo pensare che altre piccole e medie aziende che operano nei mari italiani possono operare senza le garanzie per l'ambiente Un'interrogazione parlamentare presentata dal Movimento 5 Stelle sulla vicenda Carichietti e sul banco degli accusati commissari di Banca d'Italia Carichietti forse poteva essere salvata, così dice il Movimento 5 Stelle, avete presentato anche un'interrogazione parlamentare e avete posto l'attenzione in particolare sulla Banca d'Italia Sì, vogliamo capire cosa hanno fatto e come hanno operato i commissari della Banca d'Italia che in un anno, dal fine 2014 al fine 2015, hanno di fatto azzerato un patrimonio che nell'ultimo bilancio disponibile era di 200 milioni di euro e hanno di fatto azzerato delle garanzie che ammontavano a 700 milioni di euro su crediti deteriorati di 320 milioni, quindi più del doppio perché tutto questo patrimonio è stato azzerato, perché tutto questo è stato annullato e perché ovviamente gli obbligazionistici hanno rimesso perché ricordiamoci sono ancora in attesa di un provvedimento che li tuteli e quantomeno gli rimborsi delle obbligazioni e dei soldi che hanno perso Si sta facendo fallire l'ultima banca territoriale abruzzese, un sistema che sta scomparendo All'estero invece ricordiamolo che in paesi come la Germania le banche territoriali sono quelle più tutelate, sono un pilastro del sistema economico tedesco come quello tedesco e vengono aiutate allo stesso Stato e lì hanno situazioni ben peggiori perché addirittura le banche territoriali tedesche hanno sofferenze per 600 miliardi di euro quindi una montagna rispetto alla situazione delle banche italiane Invece in Italia si sta distruggendo un sistema finanziario che era sicuramente in situazione migliore rispetto ad altri sistemi europei Ora la cronaca, altri due arresti da parte della polizia di Pescara chiudono un'operazione antiprostituzione avviata lo scorso mese di ottobre Operazione della squadra mobile di Pescara in collaborazione con la polizia della Romania e dell'Interpol contro un racket della prostituzione nella cittadina adriatica con un giro di affari di almeno 50 mila euro al mese Dopo sei mesi di ricerche sono stati rintracciati e arrestati due romeni, marito e moglie, colpiti da mandato di arresto europeo e latitanti dopo un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione condotta nell'ottobre scorso sempre nella città abruzzese I due arrestati sono Angel Dimitru Cornell, 28 anni, e Angel Bianca, 22 L'indagine è sotto la direzione della procura della Repubblica di Pescara e del PM Andrea Papalia Gli altri due indagati sono destinatari di analoga misura restrittiva Adriana Pasca, romena di 22 anni, arrestata a Pescara nell'ottobre scorso e ora con obbligo di dimora e Michele Colalè, pescarese di 39 anni, ancora latitante Colalè era stato già arrestato per reati analoghi in un'operazione della mobile nel 2011 Ai quattro è contestata associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione Secondo gli inquirenti, Angel Dimitru Cornell e Michele Colalè erano elementi dell'associazione e si occupavano di reclutare all'estero giovani romene, mentre le due donne avevano ruoli esecutivi e di raccordo Le indagini complesse avviate nell'estate del 2014 hanno portato allo scoperto un fenomeno criminale per il controllo e la spartizione del territorio destinato all'esercizio della prostituzione nella zona sud di Pescara e all'interno della pineta d'Annunziana Era basato sul pagamento di una sorta di tassa di occupazione da parte delle prostitute che venivano minacciate e picchiate in caso di rifiuto riscontrate e documentate molte rimesse di denaro in Romania attraverso il cicculto del money transfer Altre sei persone, quattro romeni e due italiani sono state indagate per estorsione Va avanti il caso della City e dell'investigatore secondo quali le notizie riporterebbero di un imminente trasferimento ma è intervenuto oggi il questore di Pescara Paolo Passamonti che ha voluto incontrare questa mattina i segretari provinciali dei sindacati di polizia per chiarire il futuro professionale dell'investigatore che con altri colleghi si sta interessando all'inchiesta alla City Il questore ha riferito che sia la locale procura della Repubblica che la distrettuale dell'Aquila non hanno mai avuto dubbi sulla correttezza dell'operato della squadra mobile di Pescara e mai hanno censurato l'attività di Giancarlo Pavone Il questore prosegue nella nota assicurato ai sindacati che non è sua intenzione attivare alcun procedimento amministrativo volto al trasferimento di sede di servizio di ufficio di Pavone Rimane tuttavia il rammarico, affermano le organizzazioni, per la totale assenza di presa di posizione da parte delle istituzioni locali coinvolte anche indirettamente dall'attacco ingiustificato e privo di fondamento del governatore d'Abruzzo per le gravi accuse lanciate contro l'operato della squadra mobile di Pescara Restiamo a Pescara perché era stato rinviato oggi il Consiglio Comunale sulla discussione dell'entrata in vigore di una legge sull'ingresso dei turisti Vediamo Prosegue la bagarre in Consiglio Comunale per quanto concerne la tassa di soggiorno Consigliere Testa è arrivato a chiedere proprio questa mattina le dimissioni dell'assessore Cuzzi E' inaccettabile presentare una delibera del genere senza aver redatto preventivamente un piano marketing dettagliato ossia la città di Pescara non sa come verranno utilizzati questi soldi una volta introitati Avete presentato tra l'altro centinaia di emendamenti come opposizione? Centinaia di emendamenti proprio per far capire che non sono emendamenti istruzionistici ma sono emendamenti per far capire all'assessore che questo non è il verso in cui bisogna andare Assessore Cuzzi, bagarre questa mattina in Consiglio Comunale all'ordine del giorno questa tassa di soggiorno e le opposizioni in particolare il consigliere dell'NCD Guerrino Testa ha chiesto le sue dimissioni Ma su questo aspetto c'è molta demagogia la tassa di soggiorno è intesa da questa amministrazione come un contributo di scopo per rilanciare la vocazione attrattiva turistica della città per fare queste cose ci vogliono delle risorse noi abbiamo avviato da un oltre un anno un percorso di condivisione con tutte le associazioni di categoria ecco la DMC del piacere siamo l'unica città in Italia che ha collegato a questo contributo di scopo che pagheranno i turisti e non i pescaresi un piano marketing quindi una visione industriale del turismo passando dal fai da te degli ultimi vent'anni a una programmazione scientifica questo servirà a Pescara per rilanciare le proprie potenzialità e soprattutto la somma di questi contributi servirà a far portare tante risorse al territorio e quindi a riattivare un'economia pescaresa Ora ci spostiamo all'Aquila per parlare di pasti scadenti in ospedale serviti dopo ore dal confezionamento e scarsa qualità un telespettatore porta avanti questa denuncia il responsabile del servizio per ora non commenta ci dice tutto Daniele Rosone Terzo giorno di sciopero della fame per Dino Scipioni un paziente aquilano ricoverato da 22 giorni all'ospedale San Salvatore dell'Aquila chi controlla la qualità dei pasti si chiede il telespettatore che nell'inviare la sua denuncia ha mostrato anche alcune foto Scipioni in sostanza denuncia la qualità dei pasti che secondo quanto da lui riferito vengono cucinati a pizzoli la mattina alle 10.30 arrivano in ospedale per essere poi serviti dice alle 13 stesse modalità per la cena come può essere denuncia Scipioni un passo servito dopo 4-5 ore dal confezionamento e poi Scipioni riferisce ancora di minestre salate e pane che viene scaricato all'esterno dell'ospedale alle 7.30 per essere portato all'interno solo alle 7.30 dice Scipioni con i gatti che si aggirano nella stessa zona Scipioni racconta anche di aver preteso di parlare con le dietiste ma dice ancora non ho ricevuto risposte convincenti fatto sta che al terzo giorno di sciopere della fame ovviamente per completezza di informazione abbiamo provveduto a contattare telefonicamente anche il responsabile del servizio mensa del San Salvatore il quale non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione alla stampa sulla vicenda che noi riportiamo riservandoci però e riservando alla ASL se lo riterrà opportuno tutto lo spazio per fare le loro considerazioni per esprimere la loro posizione sulla questione Il segretario nazionale dell'FSNI Lorusso a Pescara oggi ha incontrato i giornalisti abruzzesi per affrontare le problematiche riguardanti il settore dell'informazione anche alla luce della nuova legge sull'editoria Vediamo Il segretario della federazione nazionale della stampa Lorusso oggi a Pescara per parlare anche dei problemi che affliggono la stampa italiana e anche quella abruzzese un momento molto difficile anche nella nostra regione ci sono tante vertenze in atto Il settore dell'editoria è ancora immerso in una crisi di natura strutturale dalla quale secondo noi si può venire fuori da una parte ridisegnando quello che è l'impianto normativo che deve regolare il sistema nel suo complesso dall'altro però intavolando un confronto con gli editori quindi con le aziende editoriali incentrato sulla importanza e sull'assoluta centralità della informazione di qualità perché senza qualità l'informazione non ha più ragione d'essere l'informazione professionale Tanti giornalisti, molti sottopagati, malpagati è questa una piaga da debellare? Diciamo che c'è innanzitutto un problema di rivedere le regole di accesso alla professione è chiaro che qui non è in discussione l'abilitazione all'esercizio della professione quanto appunto la distinzione tra chi è abilitato all'esercizio della professione e chi la professione la esercita realmente la esercita effettivamente La legge sull'editoria come sapete ha fatto il primo passaggio è stata approvata dalla Camera e adesso è arrivata al Senato dove deve essere calendarizzata sappiamo soltanto che è stata assegnata la prima commissione quindi poi ci saranno tutti i passaggi previsti dai regolamenti anche in Senato Domani si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e oggi l'assessore regionale Donato Di Matteo ha presentato una proposta di legge su come affrontare concretamente questa forma di disabilità che colpisce anche in Abruzzo sempre più persone Sessore Di Matteo quella di domani sarà una giornata importante la giornata della consapevolezza sull'autismo e oggi presentate un progetto di legge regionale proprio sull'autismo Ho avviato un percorso di concertazione che oggi si va a concretizzare in una bozza di proposta che serve a modificare alcuni aspetti e a dare un ruolo strategico importante a quella che è l'attività dell'autismo che non può essere un argomento considerato un argomento all'interno delle malattie psichiatiche per cui noi andremo avanti su 3-4 proposte fondamentali la prima la diagnosi precoce che deve essere sviluppata nei territori di appartenenza l'altro aspetto è che c'è un percorso per cui l'autistico dopo i 18 anni esce dallo schema di attenzione delle istituzioni e rimangono in un mondo diciamo coperto, buio bisogna lavorare per cui queste persone quando perderanno i familiari, i genitori avranno anche un modo per vivere in maniera diciamo adeguata a quella che è una civiltà moderna come quello che vogliamo sviluppare Tonella De Angelis parliamo di questo concerto che ci sarà il 9 aprile un concerto che servirà per raccogliere fondi per i genitori di bambini autistici il concerto è impernato su un grande artista internazionale Danilo Rea che ha abbracciato con grande sensibilità la cosa eseguiremo musiche sue arrangiate per orchestra fiati e trio jazz e in apertura al concerto ci sarà un gruppo di ragazzi dai 5 ai 13 anni violoncellieri che sono in effetti sotto i riflettori a livello nazionale di grandi musicisti per la didattica innovativa del preparatore che è Gianluigi Fiordaliso e da oggi a Roseto è potenziato lo sportello per il distretto sanitario di base questo per far fronte all'afflusso dell'utenza dovuta al rinnovo per esenzione da reddito del ticket sanitario Lisa Leuzzo Sindaco è stato potenziato il servizio per la richiesta di esenzione ticket un servizio importante richiesto da molti cittadini sì quest'anno la AS ringrazio il direttore generale il dottor Fagnano il responsabile del dottor Pinto del distretto sanitario di base di Roseto su richiesta del sindaco che ha fatto questa richiesta perché sollecitato da tanti cittadini della nostra città che per avere l'esenzione ticket per reddito si dovevano rivolgere agli uffici di Giulianova ha presentato una formale richiesta di riattivazione di questo servizio nel nostro distretto sanitario di base qui a Roseto e con grande soddisfazione oggi possiamo dire che i vertici della AS hanno accolto questa richiesta che il sindaco ha fatto a nome della città di Roseto degli Abruzzi ci saranno due sportelli aperti la mia soddisfazione è perché i nostri cittadini avranno meno disagi considerando che chi ha esenzione dal ticket sono persone appunto di età avanzata spesso persone anziane anche con disagi sociali ed economici quindi anche con difficoltà a spostarsi il 2 aprile un concerto per una raccolta fondi destinata ai cani del canile di Pescara e a esibirsi sarà il cantautore pescarese Andrea Piermattei vediamo si parla del canile comunale di Pescara di questo concerto per raccogliere fondi per il canile di Pescara un bel gesto anche per aiutare il mondo animale è sempre un piacere quando la cultura in qualche modo interviene interagisce con i problemi sociali importanti urgenti di questa città così diversi musicisti di Pescara in particolare Andrea Piermattei che è conosciuta ha pubblicato diversi cd anche in tutta Italia ascoltati e ha deciso di tenere dei concerti insieme a altri amici musicisti e altre band per sensibilizzare per raccogliere fondi per fare un gesto diciamo anche utile pratico efficace per dare un po' di risorse al canile visto che tante persone lavorano in modo volontaristico per questo obiettivo tanti problemi al canile qui è giusto anche la cultura si mobiliti per sostenere questo problema io davvero ringrazio il nostro artista Piermattei che ha una sensibilità davvero spiccata perché lui davvero crede in questo aiuto nelle attività che svolgono le associazioni quindi questi suoi concerti spesso sono dedicati proprio a una raccolta fondi per loro quindi come assessore alla tutela del mondo animale lo posso soltanto ringraziare sperando che questa nostra anche vicinanza e collaborazione possa aiutare quindi l'associazione e quindi gli animali che ovviamente tutti i giorni nella nostra città devono essere supportati aiutati perché i cittadini a Pescara sono davvero molto sensibili e ora apriamo la pagina dello sport Virtus Lanciano chiamata la grande impresa perché tra poco più di un'ora scenderà in campo contro la capolista Crotone allora per gli ultimi aggiornamenti noi ci colleghiamo con Alessio Giancristofaro buonasera Alessio buonasera a te Francesca buonasera a tutti dunque sì hai detto bene una sfida importantissima sulla sponda pitagorica per il Crotone perché può essere il primo match ball per raggiungere l'obiettivo della Massimaterio un obiettivo insperato ma comunque meritato sul campo dalla squadra calabrese a questa sensazione fa da contraltare comunque il cammino della Virtus che deve essere in qualche modo ripreso dopo la battuta d'arresto di sette giorni fa in casa contro il Perugia abbiamo anche le formazioni ufficiali che ti vado a dire sostanzialmente non ci sono grossi cambiamenti rispetto al 4-3-2-1 schierato da Primo Maragliulo tra l'altro la decima panchina con il Lanciano sette giorni fa contro il Perugia l'unica novità è il ritorno tra i pali di Cragno dunque i quattro di difesa sono Aquilanti con rigione a Menta centrale e Di Matteo a sinistra poi abbiamo a centrocampo la linea di Mediana con Bacinovic assistito da Rocca e da Vitale i due ispiratori dell'unica punta Ferrari sono Marilungo e il confermato Gaetano Bastola a disposizione casa dei turchi Bonazzoli di Filippo Padovan Grozic di Nicola Milinkovic e Giandonato risponde il crotone di Diuric con Cordac tra i pali Stojan Clayton Cremonesi di Roberto Palladino ante Budimir Salzano Martella Capezzi e Garzia Tena dunque tra poco più di un'ora i riflettori dell'efficio uscita si illumineranno e speriamo ovviamente che siano luci per la Virtus Lanciano che possa intraprendere e riprendere il cammino che ha contraddistinto finora la gestione di Primo Maragliulo al seguito della squadra frentana una ventina di sostenitori che hanno affrontato questa lunghissima trasferta io ho finito a te la linea Francesca grazie ad Alessio Gian Cristofaro e per il Pescara invece domani il match sarà l'Adriatico con il Fanalino di Coda con il Como assenti in campo Saranno Crescenzi Zampano e Mazzotta dunque tutta la batteria di esterni sicuro l'impiego a destra in difesa di Vitturini Campagnaro centrale il dubbio del tecnico è legato all'utilizzo come esterno Mancino basso di Rolando Mandragora con Fornasier che a quel punto farebbe copia proprio con Campagnaro al centro della difesa è convocato anche il giovane Ventola che andrà presumibilmente in panchina con Zuparic e Bruno e davanti a tutti a disposizione anche se il tecnico sceglierà domani chi mandare in tribuna queste le dichiarazioni di Massimo Oddo ho tanta voglia di riscatto come ce l'hanno i ragazzi non vedo l'ora che arriva questa partita per per voler dimostrare che possiamo essere quelli che siamo stati fino a qualche partita fa abbiamo tutte le capacità di farlo ma io sono sono molto sereno sono molto sereno ma la mia serenità me la danno i ragazzi perché quando io vedo che in settimana si allenano bene e fanno e fanno tutto quello che gli chiedo e lo fanno bene con entusiasmo e con voglia e vedo la loro voglia negli occhi di rivincita io sono sono sereno non sarei sereno se vedessi altri problemi ma questi problemi non ci sono quindi si sono allenati molto bene sono concentrati hanno voglia di riscatto quindi io sono sereno fino alla fine dell'anno vi posso garantire che il Pescari Tanni non lo vedrete più perché la nostra forza è sempre stata una e quello che abbiamo conquistato l'abbiamo conquistato con quella filosofia e quella deve essere al di là poi dei momenti di difficoltà ma in questo campionato solo tre o quattro volte non siamo andati a segno quindi questo è un dato importante questa è una squadra che fa gol è una squadra che crea crea tantissimo e non puoi privarti di quella che è la tua forza l'importo ci sarà ancora il Como sta bene è una squadra che sta bene fisicamente che sta che in salute gioca da quando ha cambiato ha fatto una vittoria fuori casa e un pareggio in casa contro comunque un avversario valido molto valido è una squadra che non va sottovalutata assolutamente se scendiamo in campo pensando che incontriamo il Como ultimi incassivi che vinciamo ma ci sbagliamo di grosso abbiamo tutti i mezzi e le qualità per poter vincere la partita perché noi ci possiamo nascondere dal fatto che è ovvio che dobbiamo vincere possiamo e dobbiamo vincere però senza sottovalutare l'avversario perché poi è una squadra che ovviamente ha bisogno di punti non credo che farà una partita all'attacco ovviamente sfrutterà le sue qualità le sue caratteristiche dovrebbe giocare a 5 come ha fatto da due batterie a queste parti e ora scendiamo in Lega Pro parliamo di Teramo confermato il match di domani contro il Rimini match messo in discussione da uno sciopero dei giocatori romagnoli per alcuni stipendi non percepiti Biancorossi quasi certamente senza speranza e Cenciarelli e per il capitano ancora problemi all'adduttore della coscia destra mentre per il mediano mercoledì in allenamento ha avuto nuove noie muscolari e Vivarini non lo schiererà per la gara contro i romagnoli è tornato invece ad allenarsi Mirko Petrella per me si gioca si gioca sicuro al 100% non ci sta manco un dubbio ho appena detto alla squadra quindi non abbiamo di questi problemi molto probabilmente scenderanno un 4-2-3-1 contro di noi quindi c'è da cercare di non farli giocare dobbiamo essere aggressivi nella fase del non possesso dobbiamo curare dobbiamo curare la loro fase di costruzione perché se riescono a servire i loro attaccanti che sono dei giocatori molto molto bravi come Di Molfetta Mancino e Polidori quindi dobbiamo tenere in grande considerazione il fatto di non far arrivare la palla a questi tre attaccanti Speranza penso che non difficile che ce la faccia perché ancora ha dei fastidi c'è un punto preciso che gli fa male quindi non penso che riuscirà a recuperare e Cenciarelli ieri si è bloccato di nuovo bisogna valutare oggi come sta vedremo anche domani ma difficilmente sarà della partita anche lui adesso la cosa che chiedo è la salvezza nel più breve tempo possibile perché vogliamo chiudere diciamo questo grande traguardo e che dobbiamo diciamo almeno dobbiamo raggiungere questo obiettivo qua nel più breve tempo possibile perché secondo me è un qualcosa come ricevo prima molto molto importante e poi c'è da la società diciamo ha bisogno anche di avere delle valorizzazioni su qualche ragazzo quindi valuteremo anche questa situazione qui magari se ci sarà la possibilità di vedere all'opera qualche ragazzo del settore giovanile che stanno facendo benissimo però la cosa che più dobbiamo avere è sempre la qualità della squadra in campo cioè sempre organizzazione sempre attenzione squadra motivata sempre con la voglia di voler far bene il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23 buona serata a a a a a a a a Grazie a tutti.